Al Festival del Brodetto nella sua finale regionale al ristorante La Perla di San Buceto trionfa il Brodetto all'Ortonese di Nadia Cirillo. Il premio per il migliore equilibrio dei sapori va al ristorante La Rete di Pescara con Marco Gianzante. Quello per la migliore presentazione al ristorante da Giuliano di Silvi Marina con Giuliano Diodoro. Sette elaborati, davvero una bella giornata. La commentiamo con il maestro di cucina, Santino Strizzi. Sì, è stata una giornata molto bollente in tutti i sensi e i cuochi effettivamente io questa volta ho avuto una difficoltà perché per me meritavano tutto il voto massimo. Perché ognuno di loro, chi ha fatto qualcosa di innovativo, chi ha fatto qualcosa della tradizione, però la differenza stava che i pesci erano tutti freschi e si sentivano perché ci avevano messo l'anima. Ma stamattina la maggior parte di loro sono andate a prendere il pesce freschissimo. La base del Brodetto è la freschezza del pesce perché se il pesce è congelato il Brodetto non lo fate perché non vale la pena. Noi quindi tanto di cappello alla Lady Chef che ha avuto il primo premio di Aortona, Nadia Cirilli, che aveva aggiunto anche un pizzichino di peperone dolce, mentre gli altri elaborati non ce l'aveva. Qualcuno aveva aggiunto i rosmarino. Ma io sono per le cose che si possono cambiare. Non è che il Brodetto standard... E per l'innovazione, nel rispetto però delle tradizioni. Sono un innovativo delle tradizioni. Io faccio piatti della tradizione, però presentati bene e con un minimo di innovazione, anche perché i prodotti che si usavano una volta, che era il pesce povero, il pesce rotto, il pesce avanzato, è una storia che oramai non va più in righe, perché se noi andiamo a mangiare a un ristorante e ci dà quel pesce lì, fatto a regola d'arte, lo critichiamo, perché dice questo che ci ha dato, gli avanzi di cucina? Allora, una volta che l'idea della persona... Sì, la base del Brodetto è questa, così, fatta a questo modo qui, però l'innovazione, i prodotti del giorno d'oggi, che non sono gli stessi che stavano prima, sono stati i pesce che sono scomparsi.